Ragazzi buonasera a tutti, bentornati su Crypto Salad, qui Federico è il 21 luglio 2023, Bitcoin 29.800 dollari, quindi Bitcoin sempre stesso livello prezzo rispetto a ieri, vi voglio portare un grafico, quello della Total Market Cap sulle tre settimane, quindi mettendo insieme due strumenti che ci danno un'interessante e promettente visione del futuro a medio termine della capitalizzazione complessiva delle cripto. E poi ragazzi vi porto due altcoin che valgono in questo momento pochi centesimi ma che potrebbero sulla base dei fondamentali e anche del grafico arrivare a valere un dollaro ovviamente se Bitcoin diciamo fa quello che deve fare. Quindi se vi sembra interessante lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, cliccate la campanella per le notifiche, lasciate i vostri messaggi, trovate dei referral link in descrizione se volete sostenere il canale. Ragazzi guardiamo insieme il grafico delle tre settimane della Market Cap, quindi il grafico rappresenta l'andamento della Market Cap complessiva del mondo delle cripto in questo momento a un trillion punto 16. Abbiamo due indicatori, abbiamo il primo è una media mobile dei 21 periodi e qua sotto abbiamo invece uno strumento che rappresenta l'ampiezza delle bande di Bollinger. Bande di Bollinger che sono uno strumento che non solo è utile ad identificare zone di ipercomprato o ipervenduto a seconda che il prezzo sia sopra o sotto le bande ma a seconda del livello di compressione che hanno le bande indica appunto la potenziale volatilità in arrivo. Quando le bande sono tra loro molto espanse siamo in una fase di questo tipo che indica l'arrivo di una potenziale compressione, quando invece le bande sono, vedete l'indicatore è così in basso, le bande sono compresse e sta ad indicare probabilmente l'arrivo di una fase di espansione. Così è stato nei precedenti bull market, vedete durante il 2015 siamo arrivati con le bande di Bollinger molto compresse, la market cap sopra la media mobile ed abbiamo una fase di espansione rialzista. Anche qui abbiamo giugno 2020, la market cap, quindi le bande di Bollinger compresse, market cap sopra la media mobile, espansione rialzista. E siamo adesso in una fase che non è molto diversa, vediamo che abbiamo bande di Bollinger molto compresse, siamo addirittura ad un minimo storico di compressione e abbiamo anche qui la market cap sopra la media mobile dei 21 periodi. Quindi se tutto dovesse andare a secondi piani potremmo assistere ad una prolungata fase di espansione rialzista ovviamente seguendo il trend. Sarebbe diverso se eventualmente la compressione rimane, le bande di Bollinger rimangono compresse e la market cap perde l'eventuale supporto della media mobile dei 21 periodi. In quel caso potremmo assistere invece ad una espansione ribassista. Poi ragazzi tornando invece alle due altcoin che secondo me oggi valgono pochi centesimi ma che potrebbero arrivare ad un dollaro. Ovviamente se bitcoin vede nuovi massimi storici, questo ovviamente è un presupposto fondamentale perché ovviamente le altcoin, la performance delle altcoin è fortemente collegata all'andamento di bitcoin. La prima, sono due altcoin che guardiamo sul time frame delle due settimane. La prima ragazzi è Anchor Protocol, quindi lasciando perdere i fondamentali di Anchor ma è una cripto che è investita anche da Binance Lab e se guardiamo insieme la chart abbiamo un doppio massimo che è stato fatto da Anchor in zona 21 centesimi tra il aprile 2021 e dicembre 2021. E vedete che da quel momento downtrend con ritest di importanti supporti, quindi livelli di precedente resistenza flippati per adesso in supporto e abbiamo anche una struttura di prezzo leggermente in cambiamento. Quindi abbiamo un minimo, un lower low, un altro lower low, un terzo lower low e per la prima volta Anchor mette a segno un higher low. Quindi la struttura sta plausibilmente cambiando da ribassista a rialzista. E se facciamo una misurazione, quindi se il prezzo di Anchor dovesse in futuro arrivare a violare questo precedente massimo, quindi quello dei 21 centesimi, potremmo arrivare a vedere l'espansione, l'arrivo dell'espansione, dell'estensione scusate del target dell'1,61-1,65, quindi la golden pocket, che arriva in zona 1,17 e 1,27, quindi questo ovviamente, ripeto, se Bitcoin vede un bull market e se Anchor riesce a violare il precedente massimo storico dei 21 centesimi, questo potrebbe essere un target ragionevole per Anchor all'incirca di 1,20 centesimi, quindi decisamente un interessante moltiplicatore rispetto al prezzo dei 2 centesimi attuale. E poi ragazzi guardiamo un'altra cripto, ed era Ashgraf, HBAR, chart molto simile, abbiamo un doppio massimo di HBAR, anche questo fatto tra aprile e dicembre 2021, una struttura ribassista che inizia a cambiare, vedete, minimo secondo lower low e terzo higher low, quindi struttura che da ribassista inizia a diventare rialzista, ritest anche qui di importanti punti di prima resistenza e poi successivamente supporto, quindi il rischio rendimento siccome qua è sbilanciato verso l'upside e anche in questo caso se HBAR dovesse violare i precedenti massimi storici, quindi intorno ai 43 centesimi, potremmo vedere un target anche qua rialzista se dovessimo raggiungere l'estensione, la Golden Pocket, 1,61-1,65 intorno ai 2 dollari addirittura, e quindi decisamente un interessante moltiplicatore rispetto ai 5 centesimi che vediamo in questo momento. Ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate riguardo a queste due altcoin che vi ho portato, grazie per la vostra attenzione, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!